benvenuti in questo nuovo video finalmente siamo sulla playlist del calo audio e voglio portarvi sul canale questa autoradio 2d universale marchiata highway safe è un autoradio con un display da 7 pollici universale perché potete posizionarla sia su un'autovettura oppure su un camion su un pulgoncino il portale che abbia la possibilità di avere lo slot per due din ha una risoluzione di full hd 1080 ero scettico ma mi sono dovuto ricredere per questo ve l'ho portata sul canale ha una potenza massima di 60 watt per 4 amplifier mosfet la media misera facciamo l'unboxing in realtà è una settimana e mezzo che la sto testando duramente siccome ci tengo tantissimo al mondo del calo audio dovevo per forza martellarla ma si è difesa veramente bene costa relativamente poco per la qualità che ha qualcuno potrebbe essere scettico lo ero anche io mi sono dovuto ricredere come al solito se ancora non l'hai fatto mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina per avere le notifiche dei prossimi video che faremo insieme ti ricordo inoltre che sotto in descrizione al video ti lascio il link se vuoi fare anche tu l'acquisto adesso facciamo l'unboxing insieme il packaging è di questo tipo qua arriva sufficientemente profetta quindi a prova di lancio avete in dotazione i comandi al volante che vi faccio subito vedere è praticamente un telecomando che dovete attaccare al volante della vostra autovettura dovete soltanto inserire due batterie di tipo tripla a ma arriviamo al succo oltre a i due spinotti due connettori iso che tutti quanti conosciamo che servono uno ad alimentare l'autoradio e l'altra collegare l'impianto audio di serie che avete della vostra vettura mi metto qui dopodiché ci sono le due staffe di tiscaggio per fissare l'autoradio al vostro cuscotto sono due staffe al con le vite in dotazione dopodiché ci sono le istruzioni anche in italiano quindi è tutto quanto chiaro per riuscire a medicare bene nel menu che adesso poi vi farò vedere e poi abbiamo addirittura di dare in dotazione questo attrezzo che serve proprio di una plastica tenera per non andare a rovinare quando andrò a smontare la vostra autoradio magari di serie perché magari volete utilizzare questo autoradio qua la sfidiamo guardate com'è ben protetta togliamo questi due busci di protezione la sfidiamo dalla sua custodia e adesso ve la faccio vedere da vicino è completamente accesa partiamo col lato posteriore della sorgente in basso a destra troviamo i due spinotti due connettori iso quello superiore quello relativo agli oltoparlanti ovviamente un 4 canali la sorgente mentre invece quello inferiore relativo all'alimentazione non potete invertire sbagliare questi due spinotti perché questa gola di scarico nel caso dell'alimentazione è messa in posizione bassa nel caso del segnale audio messa in posizione mediana vedete che è a metà e protetta da un fusibile da 10 ampere quindi rosso microfusibile a un ingresso usb posteriore ma andiamo a vedere gli altri dati tecnici a un ingresso di bass questo è il collegamento femmina per l'antenna e poi a due uscite pre out sinistra e destra alla possibilità in pre out di gestire un subwoofer e alla possibilità di gestire in auto un altro monitor video potete quindi comodamente andare a proiettare in un altro monitor tutto ciò che vedete dentro la sorgente quindi è un sistema espandibile ha poi due ingressi telecamera anteriore telecamera posteriore per aiutarvi nelle manovre di parcheggio ovviamente accetta soltanto una telecamera marchiata a west half anche questa qua del me vi metto sotto in descrizione al video link se volete acquistarla accetta poi un ingresso microfono in nel caso vogliate collegarvi qualsiasi altro tipo di apparecchio acustico sul frontale invece possiamo notare questa carinissima cornice argentata con display 7 pollici in versione opaca è un touch molto soft notiamo in alto a sinistra il tasto d'accensione al tasto home volume più volume meno poi a un ingresso ausiliario per l'audio accetta una micro usb quindi potete caricare dei video immagini o mp3 all'interno della micro sd e inserirla nella sorgente lei riprodurrà poi ha anche un ingresso usb frontale per collegare lo smartphone alla sorgente e poi un microfono in posizione anteriore ma adesso è arrivato il momento di farvela vedere completamente accesa ed eccola qua in tutto il suo splendore grafico parte il touch guardate che bella la grafica e parte subito con l'impostazione della radio in fm1 alla possibilità di memorizzare fino a sei canali ovviamente ragazzi sul tasto home abbiamo la possibilità guardate in basso di settare la sorgente in quattro tipi di macro sezioni ovvero abbiamo l'ingresso sd per gestire quindi una micro sd come vi ho detto prima per guardare immagini video o sentire musica abbiamo l'ingresso ausiliario e poi abbiamo l'ingresso usb e poi il famosissimo car play per ios e auto android perché avete capito bene questa sorgente si collegare tranquillamente al vostro smartphone andiamo a vedere le funzioni quelle principali innanzitutto il display può essere settato quando c'è il sole a questo grado di luminosità ma se andiamo a schiacciare sulla luna abbassa attenua leggermente la luminosità del display per non disturbarci durante la guida addirittura con l'ultimo touch possiamo addirittura spegnere il display se ci dà fastidio durante la guida magari stiamo facendo un lungo viaggio con un semplicissimo tap si riaccende tutto quanto ma adesso andiamo a vedere le impostazioni qua in alto a destra questa è la sezione audio che mi è piaciuta di più allora oltre ad avere il classico fader ha la possibilità di andare a settare e far suonare quindi l'altoparlante che più desideriamo ad esempio possiamo andare a far suonare soltanto l'altoparlante vicino al guidatore se magari gli altri passeggeri dentro la vettura o dentro al mezzo magari stanno dormendo questa cosa qua può essere settata guardate anche sul lato passeggero sul sedile posteriore sinistro e destro oppure schiacciando su tutto il fader ritorno a centrale ovviamente abbiamo la funzione ludnis per aumentare l'enfatizzazione di base di tutte le frequenze sonore entriamo poi nell'equalizzatore che mi è piaciuto veramente tanto qua ragazzi abbiamo la possibilità di andare a settare da 100 fino a 18 kHz tutte le frequenze alzando i livelli da più 8 a meno 8 quindi abbiamo la possibilità di personalizzare l'impatto sonoro che più desideriamo ovviamente se andiamo a schiacciare questi tassi laterali lei ha già dei settaggi di default su musica classica rock pop jazz elettrico io essendo amante del car audio me lo sono settato per i fatti miei ma torniamo indietro e andiamo a vedere altre funzioni relative al menu un po generale della sorgente la lingua l'ho settata in italiano l'illuminazione tasti anche una trafigata perché potete far cambiare il colore di questi tasti alla vostra sinistra in base alla cro al colore che avete del vostro cruscotto ad esempio potete mettere i pulsanti rossi oppure verdi gialli blu viola azzurri bianchi c'è la possibilità di far cambiare colore continuamente ai tasti con questa funzione qua io l'ho lasciato blu porterò questa sorgente sul mio for transit adesso andiamo a vedere altre funzioni queste sono relative al display avete la possibilità di visualizzare 16 noni o 4 terzi poi abbiamo la possibilità di aumentare diminuire la luminosità quindi possiamo andare manualmente possiamo andare ad aumentare diminuire il contrasto cambiare il colore di sfondo e poi possiamo anche andare a variare la saturazione passiamo poi sulla regolazione della data elettrica ora qua semplicissimo anno mese giorno ora minuti e secondi e poi andiamo qua questa è una trafigata perché abbiamo la possibilità di andare a cambiare guardate che bello lo sfondo della sorgente potete mettere quello che più vi piace ci sono tutte queste opzioni magari noi lasciamo adesso questa qua di default e poi abbiamo questi comandi al volante qua abbiamo la possibilità di gestire i comandi al volante quindi di effettuare delle chiamate col vostro cellulare senza andare a prendere maledetto smartphone mentre siete alla guida adesso torniamo indietro vi faccio vedere le funzioni della radio che come vi dicevo prima lavora in fm 1 la possibilità di settare 6 stazioni radio tutte le funzioni a fta pti tutto ciò che sappiamo mono stereo nulla di più nulla di meno ritorniamo sul tasto home e qua abbiamo poi la possibilità di andare ad impostare bluetooth per collegare il telefono quindi alla nostra sorgente ma adesso vi faccio vedere le funzioni la funzione bellissima che ha di collegamento del telefono con questo tipo di sorgente vi faccio vedere subito l'interfaccia bluetooth collegando il vostro smartphone in questo caso huawei p30 light con la sorgente avete la possibilità di andare a gestire la tastiera del vostro smartphone le chiamate la rubrica e soprattutto se avete dei file audio potete andarli a gestire qua sull'ultimo tasto vi indica che avete lo smartphone collegato vi faccio adesso vedere il collegamento della presa usb frontale per collegare lo smartphone direttamente alla sorgente sta facendo in automatico il riconoscimento dello smartphone direttamente sulla memoria della sorgente sta riconoscendo l'interfaccia google tra qualche istante si aprirà eccolo qua il navigatore ovviamente valgono tutte le stesse funzioni che abbiamo sullo smartphone quindi addirittura anche col microfono frontale per esempio google portami a vari ed eccolo qua 9 ore e 30 minuti 1015 chilometri dal mio indirizzo di casa direi che ragazzi è veramente uno spettacolo potete anche ascoltare quindi le musiche su youtube oppure tutte le musiche che avete caricate sulle vostre interfacce android oppure ios direi che ragazzi vi ho fatto vedere veramente tutto quanto ritorniamo usciamo al menu principale direttamente dal tasto home schiacciando una volta il tasto d'accensione potete mettere in muto tutta la sorgente direi che vi ho praticamente raccontato tutto vi faccio vedere da vicino i comandi al volante i comandi al volante sono facilissimi da installare perché questo telecomando si sfila da questo supporto in questo modo qua potete andare a attaccare questo elastico direttamente al volante della vostra autoradio e avere anche il telecomandino ovviamente che si può staccare qua abbiamo il volume più volume meno tutte le varie funzioni sia del telefono a cambiare i vari settaggi della modalità che vi ho fatto vedere poc'anzi sd aux usb e phonelix per il carplay ragazzi direi che è veramente un prodotto valido 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 bene amici siamo arrivati alla conclusione di questo video ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video che faremo se ti è piaciuto il video metti un like e ti ricordo anche di seguirmi sui social facebook e instagram il tubo di beppe sotto in descrizione al video ti lascio il link e se vuoi effettuare l'acquisto di questa sorgente se ti è piaciuto il video quindi metti un like e ringrazio tantissimo how is safe per la collaborazione con il canale il tubo di beppe e ti ricordo che noi come al solito ci vediamo come ogni martedì sera alle 21.30 con un nuovo video ciao ragazzi ciao